Stiamo per scoprire un luogo unico, dove i capolavori dell'arte di ogni epoca ci circondano da tutti i lati, si estendono sopra e sotto di noi, ci sorprendono per ricchezza e varietà. Il complesso di Santa Giulia, museo della città di Brescia, ci racconta oltre 3.000 anni di storia. Un incontro ravvicinato ed emozionante con capolavori straordinari, dall'arte romana all'età veneta, la vittoria alata, i mosaici delle Domus, la Lipsanoteca, la croce gemmata di Desiderio, gli splendidi affreschi del monastero, 12.000 reperti archeologici e opere d'arte dal valore inestimabile, esposti in un'area di 14.000 metri quadrati. Santa Giulia, uno dei maggiori musei italiani, ha sede nel monastero benedettino fondato nell'anno 753 da Desiderio, duca e re dei Longobardi. Diverse campagne di scavi archeologici hanno portato alla luce, sotto il museo, un quartiere residenziale romano. La visita al complesso garantisce infinite suggestioni, nell'incontro con grandi tesori dell'arte custoditi nei loro scrigni originali. Le Domus Romani dell'Ortaglia, la Basilica Paleocristiana e la Cripta di San Salvatore, il Monastero Longobardo, l'Oratorio Romanico di Santa Maria in Solario, la Chiesa di Santa Giulia, oggi Sala Conferenza del Museo, e il Coro delle Monache.